Everybody f***in' losin' Bella ragazzi sono Daryl e sono qui con un nuovo gameplay E' bella ragazzi Dimmi ma? Sta parlando al telefono il tempismo della madre di Xenic Che cosa? No, non l'ho poco messo E' perchè non ne ho scordato Va bene comunque siamo qui Uso la K12 io continuo a chiamarla la K47 Va bene mamma dai sto a far video Cioè non puoi prolungare troppo la cosa Si tranquilla ciao E' anche un buon gameplay Oddio mio Ma ci penso dopo quando torno a casa no? Si ciao Ciao Bella ragazzi sono Xenic e qui è finita la chiamata Siamo su sovereign la partita è buona Non è ancora morto Daryl Sta in serie di due Ci penso che la tua madre rovina tutto Vabbè dai almeno E' resa partecipe del nostro canale Si ma è brutto che il video Il video comincia si ma Capito però gli dico oh Senti sto a far video No no è una cosa importante Vabbè dimmi Invece era una cazzata ovviamente Oddio doppia Mamma mia che Daryl Eccolo sta arrivando l'Eind Sta arrivando l'Eind E' ha preso l'Eind Perché non hai preso Ah no te ne manca un'altra ancora Eccolo l'Eind Olè Questa è da game Non lo buttare Ma perchè no? Perchè devi prendere la game Sono a 8 no? Eh stai a 8 Ok conta Muoveremo le uccisioni con l'Eind Vai Allora Cattura la bandiera Vabbè comunque sto usando la K12 Classica classe per giocare a dominio diciamo Usi solo la K12 Non odio ogni video Usa un'arma Ma per lui un'arma C'è sta io non ho più Sì andate questo è il mio primo video Io non ho più Non ho visto altre armi nelle sue classi Non so neanche che armi Ma noi so altre classi nelle mie armi Altre classi Lui è di alta scuola Oh 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 Olè un'altra ce ne sta Ecco occhio Sempre la da hai sparato Signore lunga cittata Mamma mia Mamma mia La doppia Mamma mia Dary Metto proprio un fila così Comunque Che Dary Oddio ce lo tieno Non so quanto stai Mi ha perso il conto So comunque a 12 Sta a sparar cane sto stronzo Sto pezzo de merda Do sta no? Fermo che c'ho il defibrillatore Oh eccolo 13 Loki 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 C'ha pure Thor tra un po' eh Aiuto Ma io faccio le battute de merda Ma perchè? Dove cazzo stanno? Non ci stanno qua Aiuto Non so Comincia a salire l'ansia Oh 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 Cane ucciso Vale come uccisione? No Ah ok Non so più Do cazzo andà Mamma mia Come smaltisse Come smaltisse Come smalto Come le smaltisse Ok allora Oddio mio Questo se non lo piavi in testa ti ammazzava Mamma mia Che Daryl ragazzi Che Daryl E' qui per la cam E' qui per la cam E' qui per la cam No hai fatto una cazzata Ricarica 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 Da Porca troia Da Da Daryl Da Daryl Cane vendicato Ti ha ammazzato il cane sto pezzo Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti ragazzi Non so più Da Daryl Da Daryl Da Daryl Mi sto fomentando io per te eh Daryl Non fare cazzate Non fare cazzate Non fare cazzate Eccolo 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 Mamma mia Daryl Quanto sto? Mamma mia 19 Del sinistra è andato E' andato a destra Non gli sparare ancora Sparare adesso Bravissimo Daryl Daryl Sto tremando Daryl Mamma mia Che partitone Daryl Che partitone Comunque vada Ha fatto una gran partita Un grande inizio Inizio proprio sprint Tremo Tremor Stiamo su Stovenage Come cazzo si chiama No su Tremor Mi sta battendo il cuore Oddio non riesco a farla Barte forte Non ho mai fatto neanche una nubile In live E' quella cosa Barte forte il cuore Manco non in live Non l'hai fatta Quindi E' inutile Non fare paragoni Eccolo Noo Do cazzo stavi? Noo Noo E poi il tuo cane l'ha anche ucciso Poteva ammazzarlo un mille No vi prego No ti dimentiché che non è vero Stava a venti Noo Oh venti Noo Ora quando arriviamo con Lochi dai L'ha presa a male della vita Ma anda nel Juggernaut Eh 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 Oh Che ammazz culturally eh Tatà ttha Tatà ttha Che palle raga mamma mia È una presa a male Quando è così è poco una presa a male Spara qualche missiletto Troncali Oh ma perché non mi mandai Juggernaut? È perché Sta ricaricando C'è un appropro Barra piccola Che è la barra piccola? Cos'è la barra piccola? Cosa? Non lo so L1 se li vuoi Questi sono approvvigionamenti L1 invece Mandiamo il Juggernaut qua Io lo mando sempre a cazzo i loghi Però riesco sempre a fare un sacco di uccisioni Allora sto a 23 con 2 Quanto rosicato veramente Non c'è neanche da parlare Che cos'è? Va a prendere l'ind Questi sono tutti i miei provvigionamenti No te giuro ma è caldo Sto rosicando anch'io Mi dispiace proprio Va a prendere il tuo hind Quanto mancava poi? Stava a 20 Mancavano 5 uccisioni sopra E li potevi fare Ce n'avevi anche già uno davanti Invece no Non va Mortacci Oh il cecchino di merda Poi come ho fatto? Non mi piace Sto ripensando Ho capito? Come ho fatto? Non accorgimene poi Eh perché ti ha spawnato dietro Che non pare Allora è così Sponde costa So the goose So bellissimi quindi C'è un cazzo da fare Però dai Fa in tempo affan in altra Impegnate Vaffanculo Te impegnate Questi sono delle piperare Vabbè faccio qualche partitina dopo va Prende Che con un cizzo Com'è poco O c'è un altro destra Non è vero non c'è A destra Non è vero non c'è a destra L'ombra Nel timore Mori facciano Dai Eri fallo Eccolo Questo sale da qua Occhio E' bello anche Dentro Galevino Infatti ti stai per favore Dove stanno Do sta Allora te ne manca Uno dall'align Ora è il cane Quindi stai Quanto è l'align 9 Ecco l'align Ok 8 8 8 Ok 8 Quindi stai a 8 Vabbè quindi prima stai a 19 No stai a 20 Che cazzo dico Quindi ora stai a 9 giusto Le rosicate rare proprio Dai ce la puoi ancora fare Se non muori mai adesso Oh Oh Quello è sceso giù comunque Stava giù Vabbè uno è nuovo Che ha pensato il cane In tutti i jaggernaut tuoi Eccolo Mortacci tu è il tuo cazzo di giubbetto Pure il cane mi ha battuto Penso che pezzo di merda Stava via coi cani Oh Vabbè però Vabbè Ma si sono pure in clan o sbaglio Perché c'hanno la targhetta colorata Non ne ho idea però Sto rosicano Oh ce l'ha fatta a morire Diciamo che ce l'ha fatta Questo sempre perché c'hai i caricatori mentali Comunque i caricatori mentali Non l'ho mai L'ho sempre sottovalutato ma Sto utilissimo Qui mi chiamano sempre Tanto ormai A partire inizia la chiamata Si Amo? Dimmi Si alle 8 Alle 8 Si si Ciao Dai sto a fare il video Sto a fare il video Allora è davanti al Ludo a questa A guai 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 Ah ok va bene Sto attenta Ok Ciao 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 Manca soltanto che chiama qualcun altro Tipo lavoro E poi sta a posto E intanto Darryl è di nuovo In linea per la cam In rotta per la cam Scusate Comunque ma chi è che sta a fare tutte le succesioni Lined? No penso che siano i tuoi jackernot No è Lined È Lined È Lined Vabbè comunque il commentare si chiamerà Telefonata più Quasi cam Si Telefona cam Oh telefona cam Dovrebbe essere figo Eccolo Eccolo Te c'è il vizio mio Non spari mai da fino a fondo Io sono morto un sacco di volte Facciamo tutto lo stesso vizio Poi vedo gente che sprega tipo 3 mili Vedo gente Marboro Che cazzo finta Si ma abbiamo se ha Se no finisce subito non riesco più a fare la cam Ma intanto è finita Comunque è partitone ragazzi Si gran partita 49-8 ragazzi Che puntete Però è una rosicata Io voglio togliermi la soddisfazione Degli ho fatto una cam E se mi dicono hai fatto una cam Ho fatto una cam Ho fatto una cam Hai fatto una cam già Con gli approvvigionamenti in quella di un altro Giusto E allora niente Quindi hai fatto una cam Oh 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 Comunque c'è Proprio Li sto ownando Li sto proprio 1-8 Li sto proprio zotando Li stai zotando Eh si Dove stanno però Sono spariti Sta sopra È morto Dove stavi? Dietro Pezzo di merda Sempre da dietro comunque Che ti stanno ammazzare Eh grazie a cazzo Darry è imbattibile da davanti Eh certo Però da dietro Eh Da dietro Darry è molto vulnerabile Ce l'hai sopra comunque Non ti ha manco visto Cioè questa è la cosa assurda Lanciarci 4 Ecco Eh te pare che non c'è stava lui? Eh Pezzo di merda Oh rapporto 1-5 Mi sa che tu è salito un po' Rato Tu che dici? Beh se fosse stata la prima partita Sarebbe stato Rato 5 Eh Se fosse stata la prima partita Mo non è più 5 Mi dispiace Devi fare altre due uccisioni Tranquillo Vai vai Senza morire però Eh 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 Ecco sta uscita là Oh Un'uccisione per fare Che darry Eh Ma che lo vedi? Ecca droga C'è un cazzo da famo Mi fai 6 uccisioni va Vai Oh ne Finisce la partita qui Sconfitta Ma vittoria Sì ma è come se fosse una sconfitta Eh però È una vittoria Ha fatto una quasi game Che non è una game Che non è una game Però Però Ha spaccato Ha spaccato Sbucca ma la prossima Bella Bella Sbucca ma la prossima Sbucca ma la prossima